Le idee della grande rivoluzione francese esercitavano in Francia l'influsso più deleterio. Al posto di Dio si era messa la ragione umana. Dio è morto, così si gridava ad alta voce in tutte le piazze e le strade di Parigi. La visione cristiana del mondo andava in frantumi. Il peccato fu considerato una cretinata, un'illusione e l'uomo divenne legge a se stesso. L'uomo non aveva più bisogno di Dio perché Dio era l'uomo. L'uomo non trattenuto più da alcun legame con la divinità si credette di diventare padrone della natura e crearsi il suo paradiso terrestre. Cosa fare? Io penso che anche in cielo Dio, la Madonna, gli angeli, la corte celeste, si missero a questo interrogativo. Che cosa fare? E Dio padre disse alla mamma del suo figlio Gesù, vai sulla terra e dai una buona parola a questa umanità impazzita. E quindi Maria scende in una grotta, la grotta di Massabelle, in Francia. E nell'ultima apparizione, o meglio, nell'ultima delle 18 apparizione, la signora mette le cose in chiaro. Aveva detto alla fanciulla Bernadette, io sono l'Immacolata Concezione, il che significa che veniva confermato ciò che il Papa aveva dichiarato col Doma dell'Immacolata. Era la conferma del cielo alla definizione del Magisterio Infallibile della Chiesa avvenuto qualche anno prima, nel 1854. Questa affermazione era anche la solenne asserzione che il peccato è il grande, anzi l'unico vero male dal quale il cielo aveva preservato colei che era stata addetta e divenuta madre del Salvatore. Inoltre, le inesistenti parole della Immacolata alla fanciulla, penitenza, 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 erano l'urgente richiesta a rinunciare al peccato, ad espiare il peccato che il cielo rivolgeva a un mondo che ormai si era immerso nel peccato. La grande richiesta della Vergine, che preservava da ogni immacchia del peccato, è piena di materna comprensione per i peccatori. Non è forse anche oggi altrettanto urgente come nel secolo scorso. Sì, perché anche oggi c'è tanto paganesimo, tante rifiute di Dio, tante rifiute di onestà di vita. Maria Santissima Immacolata di Lourdes ci invita alla penitenza e al rigetto del peccato. Le conversioni operate dalla grazia onnipotente di Dio a Lourdes per l'intercessione della Vergine Immacolata sono senza dubbio più numerose dei miracoli in favore dei malati del corpo. Noi pensiamo ai tanti miracoli a Lourdes, delle guarigioni fisiche, pensiamo meno di quante conversioni si ottengono a Lourdes, di quante guarigioni dell'anima, di quanto cambiamento di vita che si compie a Lourdes. Non si può negare che aumenta ogni giorno nei nostri paesi l'impietà. Abbiamo bisogno di Maria, abbiamo bisogno della Madonna. Padre Pio non è stato mai a Lourdes, anche se affermava di essere stato tante volte. Di fatto descriveva tutta la località di Lourdes come fosse stata veramente. E quindi non c'era la necessità di andare, però esortava sempre i fedeli di andare a Lourdes a pregare ai piedi della Madonna Immacolata.